Si accendono le luci sul Natale 2013 di Faenza Centro, l'associazione di promozione delle attività economiche del centro storico. Grazie ai suoi oltre 100 associati, ha programmato oltre un mese di eventi, iniziative e animazioni per regalare alla città uno splendido Natale. Si inizia oggi con l'accensione delle luci e rigorosamente basso consumo energetico e dell'innovativo albero di Natale, ad impatto zero dal punto di vista ambientale. Infine, un particolare allestimento scenografico cambierà il volto della nostra piazza del popolo, illuminando le balconate e le colonne del Palazzo del Comune e dei Palazzo Manfredi. Oggi inaugura anche la prima corsa del trenino di Natale di Faenza Centro, che percorrerà in lungo e largo i corsi cittadini ogni sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, fino al 21 dicembre. Ogni fine settimana il percorso è diverso, con un capolina collocato in uno degli assi del centro della città. I biglietti per l'allegro trenino sono disponibili nei negozi Faenza Centro. Domani invece appuntamento con la carrozza di Natale trennata dal cavallo Briciola, che accompagnerà le famiglie in giro per tutta la città. Anche biglietti in questo caso per la carrozza di Natale sono disponibili nei negozi di Faenza Centro. Proprio questi negozi saranno i grandi protagonisti delle festività natalizie, anche grazie all'apertura e coordinate delle domeniche di dicembre, per dare proprio a tutti la possibilità di fare shopping in tranquillità. E le sorprese nei negozi non finiscono qui. Da sabato 7 dicembre torna, dopo l'incredibile successo 2012, l'iniziativa Il Vino del Centro, in collaborazione con la Caviro. Gli acquisti dei negozi Faenza Centro regalano ben due bottiglie di vino nella linea Romeo Fine Wines di Caviro. E in più sconti su acquisti successivi in Caviroteca. Torna in città anche la pista di vero ghiaccio collocata in piazza della Molinella per tutto il periodo delle feste. L'apertura è prevista per sabato 7 dicembre e sarà attiva tutti i giorni fino alla fine di gennaio 2014. Questi due mesi di tempo per godersi il divertimento di una scivolata sul ghiaccio, approfittando anche della promozione dei negozi Faenza Centro, che effettuerà acquisti in questi negozi, infatti, e potrà ricevere i biglietti per un ingresso gratuito o ridotto alla pista del ghiaccio. Continua infine la collaborazione con il Servizio Ambiente Giardini del Comune di Faenza, per la manifestazione ormai giunta alla quarta edizione dei giardini di Natale. Nei prossimi giorni le principali piazze e vie del Centro Storico vedranno fiorire dei suggestivi giardini d'inverno, curati dai migliori vivaisti della zona. Per la prima volta è stato assegnato un tema guida per la realizzazione verde dedicata al settecentenario della dinastia dei Manfredi. La manifestazione floreale, infatti, sarà guidata dal tema Il Giardino del Principe. L'inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 7 dicembre, alle 16, presso la Sala del Consiglio del Comune di Faenza. Francesca Di Letta, per Faenza Web TV.